In montagna i mesi invernali sono dedicati ai lavori che si possono fare in casa. A Santo Maso a Gordino la Proloco ha pensato di proporgli ai turisti durante il periodo estivo. Quest'anno abbiamo deciso di fare una mostra su vari artisti, varie persone che mettono la loro arte a disposizione di tutti i cittadini. Vediamo qui delle opere di legno inciso, delle lavorazioni a maglia o delle scarpine per bambini, oggetti per la casa, quadri, maglie, ricami, pezzi di legno che trasformano un pezzo di legno in opere d'arte. Questa mostra è aperta dalle 16 alle 20 durante il periodo estivo e si possono ammirare tutto quello che i nostri concittadini riescono a creare con le proprie mani. Fino ad arrivare ai quadri, alle opere un po' più folcloristiche, un po' più artistiche, i quadri un po' più particolari, moderni. Sono in vendita questi oggetti, disegni e sculture? No, questi oggetti qua sono oggetti privati degli artisti che li mostrano alla gente per far vedere le loro opere, diciamo. Queste cose vengono fatte principalmente nel periodo invernale quando magari si ha un po' più di tempo, visto che fuori fa freddo.